in un video recente abbiamo visto come eliminare dai nostri pc recall che rappresenta una minaccia sia per la sicurezza sia per la privacy di tutti quanti noi tuttavia erano rimasti alcuni interrogativi aperti ed alcune cose irrisolte nel video di oggi infatti andremo a vedere esattamente come chiudere il cerchio eliminare anche il database di recall che rappresenta la più grossa falla di sicurezza a bordo dei nostri computer ma anche come comportarci per quanto riguarda copilot e questo perché per due motivi il primo è che più o meno recentemente microsoft ha fatto uscire un aggiornamento in grado di aggiornare automaticamente i nostri sistemi operativi alla versione più recente e quindi se hai windows 10 senza chiederti il permesso molto probabilmente questo aggiornamento da un momento all'altro potrebbe aggiornartelo a windows 11 proprio nella versione 24 h2 ma anche se ad esempio hai windows 11 nella versione 22 h2 questo potrebbe accadere e allora andiamo a vedere come fare ad eliminare il database di recall copilot e chiudere tutte quante le falle di sicurezza in maniera definitiva in modo tale da poter dormire sonni tranquilli e quindi se ti senti pronto iniziamo sarei ingiusto se non dicessi che io in realtà allo zio bill gli voglio anche un po bene tutto sommato sono cresciuto informaticamente sempre sotto l'insegna di microsoft ho imparato molte cose grazie a loro ma devo dire che certe volte rimango veramente basito di fronte a dei loro atteggiamenti che denotano una certa mancanza di rispetto per tutti quanti i loro utenti in particolar modo sto parlando di questo aggiornamento che in realtà è un po vecchiotto è uscito ad agosto e tutti quanti abbiamo a bordo dei nostri computer che nella sua semplicità non fa altro che andare a verificare la versione del nostro sistema operativo e se questa viene giudicata obsoleta semplicemente si limita ad aggiornarlo alla 24 h2 di windows 11 ma tutto senza chiedere nemmeno il permesso all'utente il secondo problema è stato quello arcinoto di recall che c'è stato letteralmente imposto a nostra insaputa e che abbiamo eliminato con il sistema che abbiamo visto in questo video che se ti forsi perso ti lascio linkato qui in alto adesso però ci tocca rimboccarci nuovamente le maniche perché ci sono delle rifiniture fondamentali da fare che per fortuna sono come vedrai davvero semplicissime ma prima svolgiamo il nostro rituale apotropaico per placare l'ira delle divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ebbene sì devo ammettere che la notizia è sfuggita anche a me perché non a caso a mio avviso è stata pubblicata il 5 di agosto e agosto come tutti ben sappiamo è il mese in cui in assoluto si presta meno attenzione al computer e infatti qualcuno ne ha approfittato per piazzarci questo aggiornamento decisamente curioso se vogliamo utilizzare un termine educato l'articolo che ne parla è quello di hardware upgrade che titola windows 11 bar 10 attenti a kb 517 16 serve a forzare l'update sugli os a fine ciclo cosa significa ce lo spiegano loro stessi con parole chiarissime microsoft ha recentemente distribuito un nuovo aggiornamento per i suoi sistemi operativi windows sia nella versione 10 che nella versione 11 riconoscibile con il codice kb 517 16 la particolarità di questa distribuzione risiede nel fatto che è avvenuta senza comunicazioni dirette agli utenti se andiamo un pochino avanti vediamo che l'aggiornamento in questione si distingue per la sua funzione specifica ovvero quella di modificare i componenti del servizio windows update il cui scopo principale non è quindi di implementare correzioni di sicurezza o qualitative ma di consentire al sistema operativo di scaricare e installare automaticamente le versioni più recenti windows 10 o 11 quando la versione attualmente in uso si avvicina alla fine del periodo di supporto tecnico ma attenzione si avvicina alla fine è un termine estremamente aleatorio e quindi dobbiamo aspettarci che su windows 11 22 h2 oppure su tutte quante le versioni di windows 10 questo possa avvenire da un momento all'altro e questo ci porta naturalmente a bomba sul nostro problema dell'intelligenza artificiale e qui dobbiamo aprire assolutamente una brevissima parentesi e cioè io non ho nulla contro l'intelligenza artificiale in sé le mie perplessità invece nascono innanzitutto dal fatto che sia imposta sui nostri computer e in secondo luogo dal fatto che sia copilot che recol sono due sistemi che come abbiamo detto e ribadito anche nel corso di questo stesso video generano dei problemi di vulnerabilità dei problemi di sicurezza e dei problemi di privacy e quindi noi perché dobbiamo permettere a due illustri sconosciuti e parlo dei due software in questione di impadronirsi indiscriminatamente di tutti i nostri dati quindi benvenga l'aggiornamento a windows 11 24 h2 che è sicuramente un sistema operativo degno di nota fatto nel giusto modo e quindi andiamo a vedere come eliminare definitivamente i problemi dell'intelligenza artificiale imposta in questo sistema e anche negli altri ma quale macchina migliore per mostrarti il problema se non un windows 11 24 h2 nativo su cui è installato come puoi vedere sia copilot sia recall anche se quest'ultimo non si vede cosa andremo a fare in questo caso andremo ad effettuare una pulizia completa utilizzando uno script per andare a scaricare il comando che ci consente di lanciare questo script faremo come al solito e quindi apriremo il nostro browser nel motore di ricerca andremo a digitare gentiluomo digitale effettueremo la nostra ricerca e faremo riferimento al primo risultato ovvero mi raccomando quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it clicchiamo per aprire il nostro sito e una volta aperto portiamoci qui in alto nella sezione downloads una volta aperta la pagina scendiamo un po più in basso fino ad individuare questo script qui che ho voluto chiamare un po' folkloristicamente lo riconosco bye bye ai possiamo scaricarlo facendo clic sul pulsante file download e come sempre nel caso in cui non riuscissimo a trovarlo potremo andare qui in alto sulla lente di ricerca e digitare anche semplicemente bye visto che è l'unico nome di software con questa parola al suo interno ecco qui che viene fuori anche in questo caso facciamo clic sul nome e vedremo che lo script viene scaricato sul nostro computer facciamo un clic per aprire la cartella compressa e potremo chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più a questo punto ci portiamo nella cartella e trasciniamo semplicemente sul nostro desktop il suo contenuto che è un semplicissimo file di testo fatto questo possiamo chiudere anche la cartella compressa andiamo ad aprire il nostro file di testo e andiamo a selezionare la stringa contenuta al suo interno clicchiamo con il pulsante destro e la copiamo e chiudiamo il documento di testo fatto questo ci portiamo in basso sul pulsante start di windows ci clicchiamo su e nella riga di ricerca andiamo a digitare powershell eccola qui la nostra powershell mi raccomando a questo punto quello che devi fare è un semplice clic destro del mouse su questa icona qui cliccare su esegui come amministratore a consentire così che vengano apportate le opportune modifiche al sistema e una volta che si sarà aperta la nostra powershell premeremo la combinazione di tasti control v per andare ad incollare proprio la stringa che abbiamo appena copiato a questo punto clicchiamo su invio ed attendiamo che questa magica stringa faccia il suo lavoro che tra un attimo ti spiegherò esattamente in che cosa consiste anche se come potrai vedere viene spiegato passo per passo ogni singola cosa che fa ok ha terminato a questo punto io ti suggerisco di premere il tasto invio perché gli altri tasti a volte non funzionano e potremo digitare exit per uscire dalla powershell ecco fatto ok ma che cosa abbiamo appena fatto ci viene spiegato sullo stesso sito dello sviluppatore se andiamo a leggere infatti quali sono le funzionalità di questo script vediamo che disabilita copilot recall e tutte le raccolte di dati da parte delle ai tramite il registro di windows ancora rimuove tutti i pacchetti delle app di intelligenza artificiale e forza anche la rimozione di tutti quanti i relativi file ma non basta elimina tutti quanti gli screenshot che sono stati scattati da recall e quindi potrebbero ancora essere presenti sui nostri computer anche se lo abbiamo disinstallato e tutti quanti i dati che sempre recall va a memorizzare insomma un bel aiuto per la sicurezza per la privacy e anche un risparmio di spazio sul nostro disco e quest'oggi vorrei fare un ringraziamento un po inusuale questo ringraziamento va a tutti quei membri della community che iscrivendosi al canale oppure con i loro super grazie hanno voluto sostenerci e questo perché grazie a loro sono riuscito ad acquistare finalmente la nuova attrezzatura che mi e vi avevo promesso da tanto tempo infatti sto parlando di fronte alla nuova videocamera che ho acquistato e con il nuovo microfono anche se devo entrambi imparare a gestirli un po meglio perché ad esempio la telecamera come puoi vedere flickera un po sulle luci alle mie spalle e mentre risentivo il video mi sono accorto che sembravo il baffo delle televendite visto che ogni tanto ogni volta anziché prendo fiato si sente un respiro un pochettino forte ma ci lavorerò nei prossimi video tuttavia nella fatti specie quest'oggi abbiamo dei ringraziamenti specifici da fare che vanno a matteo walter fontana leonardo alati il gatto mistico detto misti gabriele ciglia mauri sello giuseppe 52 mauro fanciullacci gerardo petrone carlo bravi mauro gremese giuseppe bettelani maurizio gerli e andrea trentin che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento a questo canale e quindi di conseguenza vi do ufficialmente il benvenuto a bordo nella community dei gentiluomini oppure il ben rimasti a bordo e quindi buona permanenza a coloro i quali invece hanno voluto rinnovare l'abbonamento ma non basta abbiamo un ringraziamento per alberto tonussi andrea trentacoste il gatto mistico detto misti nuovamente giorgio brusasco e vincenzo zappone che non voleva essere ringraziato ma noi lo ringraziamo lo stesso e questo per i loro super grazie con cui hanno voluto ulteriormente contribuire e ancora l'ultimo ringraziamento non può mai mancare altrimenti il nostro video non è completo ed è quello destinato proprio per la prima volta con la nuova telecamera a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima